A Cremona destano non poche lamentele da parte della cittadinanza le condizioni di degrado in cui si presentano due istituti scolastici. La scuola materna ed elementare Sant'Ambrogio, i cui muri esterni sono a dir poco tempestati di distacchi d'intonaco, e la scuola media vida, la cui facciata anteriore versa in uno stato persino peggiore, sempre per via dell'intonaco che si è scrostato nel corso degli anni. La problematica non si limita solo ad un fattore estetico, potrebbe avere diverse ripercussioni anche dal punto di vista della sicurezza. Si è espresso sul tema il consigliere comunale di minoranza Alessandro Portesani. La situazione è da vedere nelle immagini di questo servizio, una situazione di degrado di immobili comunali destinati tra l'altro all'erogazione di servizi scolastici per i cittadini più piccoli della città di Cremona, versano in situazioni di degrado, di trascuratezza che si protrae da anni. A testimoniare che le amministrazioni di centro-sinistra che sono susseguite nel governo della città di Cremona non hanno effettuato nessun investimento strutturale su questi edifici che sono edifici importantissimi nella vita dei nostri figli. Ad onore del vero la giunta a Galimberti e oggi la giunta a Virgilio stanno effettuando degli investimenti su alcuni immobili scolastici utilizzando fondi del PNRR che è bene sempre ricordarlo, sono fondi derivanti dal debito pubblico dei cittadini italiani perché sono soldi che dovremmo restituire. È stato importante cogliere queste possibilità ma allo stesso tempo è vitale che l'amministrazione inizia ad investire risorse della stessa amministrazione per mantenere in adeguatezza gli immobili che ospitano i nostri figli. Una situazione di enorme degrado si presenta anche nelle palestre scolastiche delle nostre scuole cittadine. Ho visitato recentemente la palestra della scuola Virgilio che versa in una condizione drammatica di trascuratezza proprio nell'interno dei locali della palestra scolastica e questa porzione dell'immobile non è oggetto di nessun investimento nemmeno con fondi PNRR.